Sta partendo da Piazzale Boschetti la manifestazione pacifica per chiedere che qualcosa cambi nel calcio Padova. I tifosi sono stanchi, stanchi della situazione, stanchi di questa società che da quando si è insediata non ha portato nulla di buono per i colori bianco scudati. Saranno circa mille le persone che si sono qua radunate, altre si uniranno al corteo strada facendo, un corteo che arriverà sotto il comune dove i tifosi incontreranno i candidati e il sindaco per chiedere loro un impegno nel caso in cui vincano le prossime elezioni per cercare una nuova società, per cercare un nuovo presidente e far sì che gli imprenditori padovani finalmente si impegnino per i colori bianco scudati. Con calma, distanziatevi, con calma e distanziatevi, più le battaglieggio, non si può dare.